forza ragazzi simona disse telefonerò per chiedergli qualcosa d'altro non è un'immagine che mi piace per la squadra io passai all'altro foglietto il cardinale il cardinale dice che non vuole che la squadra di pallacanestro si chiami forza ragazzi disse simona siccome la nostra è una scuola confessionale vuole un nome che abbia una risonanza religiosa chiama il cardinale per favore dissi entrai frettolosamente nel mio ufficio alle pareti spiccavano immagini corniciate della madonna e del religioso che aveva fondato la scuola il cardinale mi parlò la squadra dei giovani si chiamare i ragazzi del sante ustacchio eminenza i giovani sono interessati di meno alla religione tradizionale risposi tutti sapevamo quanto il cardinale fosse pieno di attenzioni per la scuola ma consideravamo che la devozione di vecchio stampo del cardinale fosse incomprensibile per i giovani che frequentavano la scuola le deve stare in linea mi avvertì il cardinale eminenza lo sono ma sinceramente credo che la religione adesso debba essere una proiezione non più un incorporazione della divinità per l'incorporazione inizia a pensarci il singolo individuo il cardinale non nascose un sospiro di molestia direttore lei faccia quello che deve fare al resto pensa il santo padre eminenza lei non pensa che così rischiate di esaurire la vostra funzione